Ciao a tutti ragazzi, qui è Dexta, oggi sono qui con questo nuovo video su GTA 5 Online Oggi abbiamo un LTS particolare, Runners vs Coca-Cola Allora, vediamo un po', ho preso le pistoline Allora, teoricamente ragazzi, la Coca-Cola sarebbero i camion con la bibita di GTA che si chiama i Cola o qualcosa del genere Che ovviamente sarebbe poi la Coca-Cola della vita reale Allora, vediamo un po', qui abbiamo un punto esclamativo E vedete, lì ci sono i camion, allora attenzione perché qui potremmo già cadere giù Allora, entriamo subito qui dentro, senza fare scherzi Cos'è? Perché il mio personaggio è caduto? Non lo so, comunque quelli stanno già cittando di brutto Non ho idea ragazzi, vai, muoviamoci, corri, 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 via dalle palle Andiamo, sali! Uh, ragazzi, pensavo mi avesse preso Pensavo mi avesse preso, invece no Allora, ok, quel camion è andato, qui c'è un altro però Vai, 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 entriamo in questo cilindro Perfetto ragazzi, siamo salvi Entriamo nel secondo Ok, siamo salvi, cos'è? Vabbè, oggi il mio personaggio cade, così a caso Vai, andiamo, andiamo Perfetto ragazzi, corri, 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 corri Che i camion stanno per arrivare Sali subito! Uh, ragazzi, quello era proprio dietro Allora, mi sa che qualcuno sta provando a cittare Compagno, io direi di muoverci, assolutamente Corri, 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 qui qualcuno mi stava prendendo Eh, ricordati che ho le pistoline E con le pistoline non si scherza Vai, corriamo ragazzi, di nuovo Oh! Vai, vai, no, 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 no Merda, stavo per cadere giù Sali subito, sali! Ragazzi, che salvataggio Ne avevo uno dietro, l'ho visto nel radar Quello è morto? No, l'hanno preso ragazzi Il mio compagno è andato Va bene, sono... Fatemi vedere un po' Ok, siamo in due sopravvissuti Siamo in due sopravvissuti Sono veramente vicino Veramente vicino Solo che ci sono troppi camion Troppi, troppi camion Quello si è fermato pure in mezzo Come faccio, Rai, ad andare? Ragazzi No, vabbè Ragazzi, come faccio io... Come faccio io ad andare avanti Se questi qui si sono messi in mezzo Dovrei salire io sopra il camion Ma è alquanto impossibile Come cosa? No, 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 no C'è uno dietro C'è un amico, colpiscilo Merda, mi... No, vabbè ragazzi Incredibile Incredibile Cioè, quello è riuscito a citare È riuscito a mettersi nella piattaforma dei runners Mi ha preso a pugni Sono caduto giù E quello mi ha investito Niente Va bene Va bene Abbiamo perso il round Veramente in maniera incredibile Secondo round Adesso noi avremo i camion della Coca-Cola No, vabbè Li dobbiamo fregare per forza ragazzi Io non penso Vai sali, sali Non penso ragazzi Che Possano fregarci facile Quel compagno Non so cosa volesse fare Però prendi anche tu un camion Che Li dobbiamo ammazzare per forza Allora dai Vanno veramente pianissimo Però ragazzi Si può fare qualcosa Quello sta già avanzando Non ci arrivo E niente Vai Passa sopra Ok, ok Allora Rimaniamo sempre in movimento Perché se mi fermo E poi riparto Perdiamo Un'intera vita Andiamo qui Perfettissimo Quelli non avanzano Allora Niente I compagni Vedete Già si sono Già uno si è fermato Al centro del percorso Il fatto è che C'è un bug ragazzi E teoricamente I nemici In questo caso Potrebbero Potrebbero rubarsi Direttamente il camion Comunque c'è un compagno Che sta andando avanti Non so se riuscirà Ad arrivare alle armi Perché Potrebbe esserci il glitch Della pistolina Infatti Credo proprio di si Credo proprio di si Ragazzi Vabbè se ce la fanno bene Non lo so Non lo so Comunque andiamo a prendere gli altri Vi stavo dicendo C'è la possibilità Che I nemici Riescono a prendere i camion Attraverso un bug Che ti fa rubare i veicoli Degli avversari O comunque anche Dei compagni Senza avvicinarti Oh 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 Quello è passato Niente ragazzi È andato avanti Vabbè non c'è problema Tanto credo che i compagni Ormai Siano arrivati alle armi Penso di si ragazzi Se non ci sono arrivati È perché c'è È perché c'è C'è il glitch Da fare con la pistolina Niente Quelli non si muovono Va bene Andiamo a prendere Quello allora Vai ragazzi Mi metto qui Vediamo se scavalca Ok Dovresti essere mio Dovresti essere mio Prendilo in pieno Oh L'ho preso lo stesso ragazzi Ha fatto due capriole Ma io lo sapevo E l'ho ucciso Ridotto in poltiglia E come vedete I compagni Niente Armi Non ce ne sono Cioè Prima di dire ci sono Ma Vedete quel giocatore Non li può prendere Non sale su perché Perché ragazzi Non ce la fa Se non hai la pistolina Avanti Non ci vai Io Ormai lo so Quindi neanche vado a cittare Niente rischio di morire Allora Schiacciato in pieno Ora però Devo risalire Ridotto in poltiglia Ci sono un sacco di camion In mezzo al percorso Quindi teoricamente Dovremo essere Messi bene Nel senso che Si ragazzi Ci sono due Compagni avanti Un nemico in mezzo Dai ce la possiamo fare Ce la possiamo fare Ormai Siamo in netto vantaggio Credo Netto vantaggio C'è quello fermo Non si sa per quale motivo E questi altri due fermi Dai questi qui Lo posso capire Però Quell'altro Lì in fondo No ragazzi Comunque mancano Sei minuti Praticamente alla fine E non lo so Se questi non si muovono Dovrò aspettare La fine dei minuti Per Per la vittoria del round Ma qui non c'è niente Che io possa fare No ragazzi No ragazzi Niente Niente da fare Potrei volendo Oppure magari Non so Provarci Ad arrivare alle armi Ma Secondo me È difficile Cioè secondo me Non si può fare Vai scendiamo Senza cadere giù Oh 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 Calma 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 Non ti buttare Ok Allora Voglio provare ragazzi Se Con la modalità furtiva Si riesce a salire Vediamo Con la tanica Neanche Vediamo un po' Mira con la tanica Poi No ragazzi Non si riesce a salire Non si riesce a salire Salta Salta Niente Siamo bloccati qui Niente da fare Ragazzi Non si riesce Vai con la furtiva E neanche Non va Non va Niente Se non è la pistolina Sei fottuto Vabbè Io già lo sapevo Ho voluto provare così Tanto quelli sono fermi Poi adesso riprenderò Il mio camion Questo è un compagno Cosa Perché non mi fa scendere Scendi Scendi Scendiamo Ragazzi Non mi fa più Vabbè Saliamo allora sopra Sopra questi fottutissimi cilindri Non ti buttare Sali Ok ragazzi Ce l'ho Un compagno Cioè quello che era qui Si è suicidato Non so per quale motivo Niente C'è lì un camion Che sta prendendo fuoco Saltiamo Niente Riprendo il mio E non lo so Non lo so ragazzi Proviamo ad ucciderli Normalmente Perché qui Non c'è veramente verso Ok I compagni Stanno morendo Stanno morendo tutti Piano piano Veramente una cosa assurda Ci sono camion Messi in maniera strana C'è tipo uno Incastrato Non lo so Vediamo se Riesco qui Ad ucciderli No Sono tutti fermi Sono tutti fermi Ragazzi lì Cioè Che intenzioni hanno Che intenzioni hanno Però potremmo far saltare in aria Forse un camion Avvicinandomi E lasciando il camion Eh ragazzi Potrebbe essere un'idea Vediamo Quello sta andando avanti No è ritornato indietro Ci sono i camion Che potrebbero Volendo pure esplodere Dai che quello forse lo prendo Troppo in ritardo Sì ragazzi Troppo in ritardo Va bene va bene Dai lui sta andando Tanto ora lo prenderò Se salterà di nuovo Ma lui ovviamente non salta Comunque dai Davanti poi c'è qualche altro ostacolo Che devono superare Dai 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 Ok devo fare una curva più Più breve Curva più breve Subito 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 Vai che sei mio Ti prendo alle spalle Ah lo sapevo ragazzi Cioè non sono andato veramente Molto indietro apposta No 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 Non può Non può arrivare alle armi Non puoi arrivare alle armi così Non puoi arrivare alle armi così Vediamo ragazzi Se mi fermo in mezzo No no Sono rimasto bloccato Non ci credo Non ci credo ragazzi È finita È finita È finita Sono arrivati alle armi Vabbè questo è perché i miei compagni Sono morti tutti Questo è perché i miei compagni Alla fine Si sono fatti ammazzare Si sono suicidati E ormai abbiamo perso Allora È arrivata le armi Con la pistolina E niente È finita ragazzi Posso provare ormai A non far più niente Cioè Se posso prendere quello Niente Mi hanno ucciso subito Niente Abbiamo sicuramente perso il round Abbiamo perso la partita È stato veramente Un LTS strano Soprattutto il modo in cui sono morto Mentre Mentre ero un runners E poi ragazzi Alla fine Che sembrava Nostro L LTS Invece poi ce l'hanno rubato Completamente Abbiamo perso la partita Comunque niente Avevamo il camion Della Coca Cola Io spero che il video Vi sia piaciuto Qui è Dexta Lasciate un bel mi piace E ci vediamo al prossimo video